E Andria è la città peggiore in tutta la Puglia, tra le 10 in Italia più inquinate da PM10 nel 2022, dove è quindi necessario ridurre l'emissione del 41%. A riportarlo è il nuovo report di Lega Ambiente Malaria di città, cambio di passo cercasi, che monitora i livelli di inquinamento atmosferico in molte città, che sono ancora troppo alti e lontani dai limiti normativi più stringenti previsti per il 2030. Il report ha messo in evidenza i dati del 2022 nei capoluoghi di provincia, sia per quanto riguarda i livelli delle polveri sottili che del biossido di azoto. In sintesi, infatti, sono ben 29 città delle 95 monitorate che hanno superato gli attuali limiti normativi per gli sforamenti del PM10, con le centraline di Torino che si piazza al primo posto con 98 giorni di sforamento. In Puglia la situazione non è così grave come nei capoluoghi del Nord Italia, dove i valori dei principali inquinanti sono nettamente superiori rispetto al resto del paese. Di tutte le città pugliesi prese in esame, la maglia nera però va ad Andria, città che ha sforato per 47 giorni il limite consentito dalla legge. Sul dato annuale però, Andria resta nei limiti. L'inquinamento atmosferico non è solo un problema ambientale, ma anche sanitario e di salute pubblica di grande importanza, ha dichiarato Ruggero Ronzulli, presidente di Legambiente Puglia. In Europa è la prima causa di morte prematura dovuta a fattori ambientali e l'Italia registra un triste primato con più di 52.000 decessi annui da PM2.5, pari a un quinto di quelli rilevati in tutto il continente. La salute è un diritto fondamentale, ha poi concluso il presidente Ronzulli, che non può essere compromesso. Tra le proposte avanzate dall'Associazione Ambientalista per combattere l'inquinamento in ambito urbano, c'è il passaggio dalle ZTL alle zone a zero emissioni, il potenziamento del trasporto pubblico e della mobilità elettrica condivisa, uno spazio urbano più a misura d'uomo e infine il passaggio all'elettrico anche prima del 2035.